Buon pomeriggio a tutti, vi voglio rendere partecipe di questa importante iniziativa che abbiamo chiamato Dal PAT al Piano degli Interventi, che è rivolta praticamente a tutti voi, a tutte le persone che hanno voglia di iniziare a partecipare, a contribuire alla costruzione del nuovo strumento urbanistico comunale Italia di Po. L'iniziativa è Dal PAT al Piano degli Interventi. Con questa iniziativa, l'amministrazione comunale avvia una campagna dedicata a raccolta di idee e proposte da inserire all'interno del primo piano degli interventi comunali. Questa iniziativa è rivolta alla gente che vive il nostro territorio e che abbia voglia di mettere in pratica azioni urbanistiche come ad esempio recuperi e riqualificazioni urbane, migliorare situazioni rimaste bloccate da molti anni oppure semplicemente proposte di sviluppo e di investimento. Questa volta vogliamo partire da te, che hai voglia di investire sul tuo comune. Una piccola premessa. È giusto ricordare che la pianificazione del territorio e l'urbanistica come l'abbiamo sempre vista e vissuta non c'è più e il piano relatore che abbiamo conosciuto fin d'ora è stato messo in cantina. Ora la programmazione urbanistica di un territorio avviene attraverso due livelli di progettazione. Uno di carattere generale che individua vincoli, fragilità, caratteristiche e strategie di sviluppo, che si chiama PAT, l'altra di carattere attuativo e cioè traduce strategie del PAT in azioni concrete attraverso il fattivo apporto dei privati e questo si chiama piano di interventi, detto anche piano del sindaco. La sua validità e quindi tutte le sue azioni dovranno essere avviate entro i cinque anni di mandato di un'amministrazione. Da 21 maggio abbiamo messo a disposizione sul sito del nostro comune tutto il materiale necessario che potrai visionare e scaricare. Mi raccomando fai pervenire tutta la documentazione e le istanze già attraverso l'apposita modulistica che abbiamo messo a disposizione. Detto questo ricordo a tutti che le istanze dovranno pervenire entro il 21 giugno prossimo 21. Le tue idee per il nuovo piano di interventi di taglio di po'. Grazie a tutti.